Il Movimento 5 Stelle della Toscana continua a perdere pezzi. I consiglieri comunali della Rufina, di Borgo San Lorenzo, di Londra, Reggello e Loro Ciuffenna hanno deciso in accordo con i rispettivi meet-up di dire addio al movimento fondato da Beppe Grillo, una compagine guidata da Saverio Galardi, anche lui di Reggello, ma soprattutto consigliere della neonata città metropolitana di Firenze. Un addio in polemica con la gestione verticistica del movimento da parte di Grillo e del suo staff, che si è reso palese secondo gli scissionisti in due occasioni. L'imposizione di un direttorio, fatto in modo tutto arbitrale, e l'espulsione di due parlamentari, contravvenendo al regolamento che il movimento si era dato. L'espulsione del deputato del Valdarno, Massimo Artini, infatti secondo i frondisti, sarebbe il frutto di una decisione presa al di fuori delle tradizionali Assemblea 5 Stelle. Da qui l'appello lanciato da Galardi a tutti gli scontenti interni al movimento per aderire a un progetto comune. Perché da tanto tempo abbiamo mal di pancia, da tanto tempo. Adesso gli ultimi eventi per noi sono stati insopportabili, e quindi abbiamo deciso di fare questa presa di posizione. E con il nostro esempio speriamo che tanti altri lo possano fare, per recuperare tutti quegli ideali e tutto quel lavoro fatto sul territorio. Perché noi ripartiamo da qua, non sono a Roma che hanno fatto una scissione, è sul territorio che adesso ci stiamo muovendo. I consiglieri comunali, intanto in accordo con i loro meetup, abbandoneranno il logo dei 5 Stelle pur mantenendolo a carica amministrativa, mentre Galardi, dopo aver votato lo statuto della città metropolitana entro il 10 gennaio, abbandonerà il suo seggio. Hanno fatto un giro di Piazza della Repubblica con le catene alle caviglie e una palla da carcerati legata al piede, per poi essere liberati e proprio con queste palle abbattere i birilli, su cui poggia la struttura del Jobs Act. È un flash mob ricco di significati, quello messo in scena a Firenze da alcuni operai e delegati sindacali della CGL, a otto giorni dallo sciopero generale, che in Toscana interesserà le piazze di Firenze, Pisa e Siena. I birilli rappresentano infatti i punti deboli secondo i sindacati della riforma del lavoro, dai licenziamenti facili ai demanzionamenti, al controllo a distanza. E in questo senso l'introduzione dei contratti a tutele crescenti previsto dal ministro Giuliano Poletti rischia di non bastare. Sempre state disponibili a affrontare il tema del confronto su questo strumento, a patto che questo strumento sia sostitutivo delle forme di precarietà oggi esistenti, e non aggiuntivo, perché ovviamente se noi costruiamo un elemento a tutele crescenti che si aggiunge alla situazione precaria, non facciamo altro che aumentare l'elemento di precarietà delle giovani generazioni e di chi ha perso il lavoro e vi vuole rientrare. Ed eccoci all'altro significato del flash mob. I lavoratori, ritenuti dal governo una palla al piede, hanno infatti solo un modo per modificare la struttura del Jobs Act, quello cioè di rompere le catene, prendere in mano il loro destino e fare strike, che per la cronaca in inglese significa anche sciopero. Variante di valico, terza corsia, bello sguardo, si continua a lavorare nel tratto appenninico dell'A1 a 50 anni dall'apertura dell'autostrada, proseguono interventi e adeguamenti. Sul sito di riferimento relativo ai controlli ambientali sono stati pubblicati dati inerenti il monitoraggio sul territorio di Bagnarripoli. L'informazione è per noi importante, tanto più quando si tratta di un intervento pubblico della portata della terza corsia dell'A1, hanno dichiarato il sindaco Francesco Casini e l'assessore alle grandi opere Paolo Frezzi. Ecco perché ci impegniamo a veicolare il più capillarmente possibile le notizie provenienti dalla società autostrade, competente per la pubblicità dell'opera, facendo anche tesoro della richiesta della commissione speciale per la terza corsia dell'autostrada A1. Intanto, nel giorno in cui si festeggia Santa Barbara, patrona tra gli altri proprio dei minatori, è iniziato il conto alla rovescia che porterà all'inaugurazione della variante di Valico, un'accelerazione seguita all'abbattimento dell'ultimo diaframma sul tracciato. Noi riteniamo in questa regione che si debba partire dalle scuole, si debba partire dall'educazione delle persone, si debba partire dalla diffusione, fin da piccoli, di una cultura della legalità che abbraccia tanti aspetti, che abbraccia, ed è uno dei progetti che hanno vinto, l'uso consapevole del denaro, che abbraccia la sensibilità verso tutti i fenomeni di mafia o di malaffare che possono inserirsi nella pubblica amministrazione o comunque nella vita comune delle persone, che comunque ricorda anche il passato del nostro paese, perché c'è anche un progetto finanziato che ricorda le grandi stragi che hanno attraversato questo paese. Grazie